Invito il parsimoniosissimo Angelo Vaccarezza che come facciamo noi si compra con i suoi soldi, come facciamo noi tutti gli strumenti che ci servono per svolgere il nostro mandato, segua il nostro esempio, si decurti lo stipendio e destini i soldi che si toglie dall'emolumento di 8.000 euro netti al mese per altre opere che ritiene ugualmente utili. Anzi accolga la proposta di legge che noi faremo a breve dove invitiamo tutto il Consiglio a decurtarsi di questi soldi. Grazie.